Ciao a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare della cipolla, in particolare andremo a vedere la raccolta delle sementi di questa pianta e poi la conservazione di quest'ultime e poi le operazioni di semini, insomma andremo ad introdurre i tempi e le modalità per effettuarla. Partiamo anzitutto dalla raccolta perché è un qualcosa che avviene adesso in estate e quindi possiamo approfondire questo argomento sicuramente. Quindi anzitutto avviciniamoci a delle piante di cipolla che hanno fatto un ciclo annuale e poi andremo a vedere una pianta invece che ha fatto un ciclo biennale, quindi di due anni. Vi ispirerò le differenze e andremo a vedere poi appunto come raccogliere e conservare le sementi della cipolla. Ecco davanti a noi ci sono delle piante di cipolla che hanno subito un ciclo annuale, quindi sono state piantate a fine inverno, inizio primavera e ora in estate sono pronte per la raccolta. Infatti nei prossimi giorni provvederemo ad estrarle dal terreno. Come vedete la pianta ha dedicato insomma qualche mese per sviluppare il bulbo. Quindi se noi adesso andiamo ad estrarre dal terreno una pianta di cipolla andremo a vedere che in profondità si è formato un bel bulbo. Questo è ancora in realtà un po' piccolino, ne abbiamo anche di più grossi, qui vedete si nota meglio. Durante il primo anno la pianta infatti dedica la maggior parte delle sue energie alla formazione del bulbo. In realtà la cipolla è una pianta però biennale, quindi in linea teorica andrebbe lasciata nello stesso posto, il bulbo andrebbe in dormienza durante l'inverno e l'anno dopo avremo la formazione del fiore e poi dei semi. Questo a noi però non interessa perché il nostro obiettivo è andare a produrre il bulbo di cipolla per la consumazione, quindi non ci interessa andare a lasciare la cipolla per due anni e farla montare a fiore. Tuttavia può anche succedere che già nel ciclo annuale, quindi durante il primo anno, si abbiano la formazione dei semi, dei fiori e poi dei semi. Questo è un problema e succede quando andiamo a somministrare ad esempio troppa acqua alle piante oppure quando ci sono delle gelate, quindi andiamo a piantare la cipolla troppo presto oppure anche le varietà, le cipolle bianche e le cipolle rosse hanno un maggior rischio di montare a seme. Tuttavia lasciare che qualche pianta monti a seme, quindi lasciare una pianta per due anni nell'orto è una cosa assolutamente utile. Adesso andiamo a vedere una pianta che, come vedete, è qui da due anni e presenta le infiorescenze e ormai anche ha formato i semi, il fiore comincia a seccarsi. Allora, vedete, durante il primo anno la cipolla ha dedicato le sue energie alla formazione del bulbo quindi eravamo in una condizione simile a questa. Noi l'abbiamo lasciata ancora per un anno, quindi non abbiamo raccolto il bulbo e vedete che si sono formate le infiorescenze durante il secondo anno. Quindi la pianta fa salire questi steli che sono abbastanza resistenti anche al tatto in realtà all'interno sono cavi e in cima a questi steli andiamo ad avere questa palla che è proprio l'insieme degli alveoli che compongono l'infiorescenza. In questo caso abbiamo tre piante attaccate perché, come vedete, abbiamo tre infiorescenze. Quindi, quando procedere con la raccolta? Quando vediamo che il seme naturalmente si vede ad occhio nudo. Guardate, qui all'interno vediamo già che alcune alveoli iniziano ad aprirsi e all'interno, infatti, troviamo i semi. Adesso raccolgo uno così. Ecco, vedete, all'interno troviamo i semi che sono neri di circa 1-2 mm e questo è il momento ottimale per la raccolta. Chiaramente si tende normalmente ad aspettare che l'intero fiore vada a seccarsi però, siccome l'essicazione non è uniforme, possiamo già procedere con la raccolta manuale di qualche seme prima che vada a cadere per terra da sé. Ricordatevi che ogni fiore produce dai 50 ai 100 semi normalmente. Quindi, in questo caso abbiamo ben tre infiorescenze e quindi abbiamo un potenziale massimo di 300 semi che sono ben più che sufficienti per un orto di medie dimensioni. Quindi, non serve occupare, destinare molto spazio alle cipolle da seme. È sufficiente un piccolo angolino dell'orto e in questo modo raggiungeremo più facilmente l'autosufficienza. Non avremo bisogno di andare il prossimo anno ad acquistare piante o semi in busta. Vi ricordo che la semina poi si effettua a settembre-ottobre, quindi in autunno per le varietà poi a sviluppo invernale raccolta primaverile oppure in marzo-aprile, quindi a fine inverno inizio primavera per le varietà come in questo caso che poi andranno raccolte in estate. E prima di concludere vi ricordo che lo scorso anno ho pubblicato sul mio canale un video dedicato alla raccolta e alla conservazione delle cipolle. Quindi vi lascio il link qui in alto e vi invito a dare un'occhiata se vi siete incuriositi, se avete delle piante di cipolla a casa e volete qualche consiglio utile. E prima di concludere fra l'altro vi invito a lasciare come sempre un mi piace iscrivervi sul mio canale se oggi avete scoperto qualcosa, imparato qualcosa di nuovo e vi do appuntamento sempre qui al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.